e per te grazie e benvenuti in questo nuovo sogno, oggi siamo qui su Brawl Stars, dopo un grande ritorno di tanto tempo, siamo qui su Brawl Stars perchè volevo iniziare a giocare e prendere questo canale sul segno e allora, prendiamo la lingua, ci saranno aggiunti le cose e in descrizione trovate dei link per comprare giochi a basso prezzo e ho ricariche tipo allora, siamo qui su Brawl Stars e intanto quella della Raffuccia 2 è cresciuta tantissimo allora, ci andiamo a fare la rapina con Leon stellato la seconda è prima per dirvi che quella rincia la prende questo canale sul segno e road to 100 iscritti, io gli ho da 100 iscritti ragazzi, ci metterò in un pegno, io ci metterò in un pegno, uno ci dovete anche mettere e vi iscrivetevi al canale mi machte mi loco eri ragazzi, mi loco receptive a me sono mostrato mi loco mi loco mi loco colpo le loco e mi loco qua Ok, non c'è. Ok, non c'è. La seconda partida. Andiamo a fare la seconda partida. Vediamo se queste cose ci sono. Non c'è un problema. Non c'è un problema, non c'è un problema. Non c'è un problema, non c'è un problema. Non c'è un problema. Non c'è un problema. Non è possibile. Non c'è un problema. 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 Grazie. Guarda davanti alla porta, vabbè, questi sono dettagli, 30 punti, desidero di poterlo. Guarda davanti a questa costruttura, io non ce l'ho mai niente. Questo è il libro dei bichini anche qua, ci vediamo al prossimo video.